Salve a tutti, siamo nel cortile della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano e ci troviamo qui per intervistare Nando Dalla Chiesa, uno dei più grandi esperti di mafia del nostro paese. Figlio del generale Carlo Alberto, assassinato per mano di Cosa Nostra, Nando Dalla Chiesa è professore, editorialista, ex deputato e presidente onorario di Libera. Insegna qui sociologia della criminalità organizzata. Iniziamo con una domanda di carattere molto generale. Se dovesse spiegare a una persona che non ne sa assolutamente nulla che cos'è la mafia, come gliela spiegherebbe? Ossia, che cosa distingue un'organizzazione criminale di stampo mafioso da una qualsiasi organizzazione criminale? Che un'organizzazione di stampo mafioso è una forma di esercizio del potere, non è una forma di devianza. È un potere che certo si contrappone a quello dello Stato e in questo senso è deviante, ma è un potere vero che pretende di governare le persone, che pretende di controllarle. Questo la trasforma in tutt'altra cosa rispetto alla nozione normale di delinquente. Assolutamente. Le organizzazioni di stampo mafioso spesso sappiamo che utilizzano dei metodi simili a quelli dello Stato. Chiedono un pizzo, offrono protezione. Lei pensa che in un certo modo vogliano sostituirsi allo Stato, che sia il loro obiettivo? Il loro obiettivo è comandare ed esercitare il potere al posto dello Stato, ma hanno bisogno che lo Stato ci sia, perché allo Stato pigliano risorse in tutti i sensi. Non amano la giustizia dello Stato, ma amano i fondi pubblici dello Stato. Amano le risorse che le amministrazioni locali possono dare. È un saccheggio continuo dell'istituzione statale, senza farebbero fatica a essere quello che sono. Quali sono le tre principali organizzazioni mafiose in Italia e cosa le distingue per chi non ne sa nulla? Le tre più importanti sono Cosa Nostra, l'Andrangheta e la Camorra. In questo momento la più potente è sicuramente l'Andrangheta. Un tempo è stata Cosa Nostra. Le distinguono soltanto la regione di origine, le distingue anche il tipo di organizzazione. Cosa Nostra e l'Andrangheta sono più unitarie. La Camorra non ha un centro unitario di direzione o di responsabilità, è più un arcipelago di clan. Le distingue anche il rapporto con la politica che in Cosa Nostra si è arrivato a livelli altissimi nel corso della sua storia, mentre è più basso con l'Andrangheta e non è mai riuscito ad arrivare ai livelli di Cosa Nostra nella Camorra. La vocazione e la conquista del territorio, questa è particolarmente sviluppata nell'Andrangheta, che infatti ha una cultura colonizzatrice nei confronti dei territori del nord, che Cosa Nostra e la Camorra hanno in misura minore. E poi anche il tipo di apertura verso l'esterno, cioè la Camorra affilia e recluta giovani che non hanno una grande storia criminale, che non sono stati osservati e Cosa Nostra andrà anche da sono più rigorosi. Sono organizzazioni che osservano, in genere c'è un canale privilegiato per chi viene dalle famiglie che hanno già appartenuto all'organizzazione, ma non si va tra gli emarginati o tra i giovani disperati a offrirgli un certo ammontare di soldi per commettere un delitto. Certo. All'inizio degli anni 90 sappiamo che l'approccio della mafia ha fatto un salto di livello e si è passato da una mafia sotterranea e nascosta alle stragi, che hanno costituito una vera e propria sfida nei confronti dello Stato. A cosa è dovuto questo cambiamento? Ma io non direi che c'è stato un passaggio dalla mafia nascosta e sotterranea alla mafia che fa le stragi. La mafia è sempre stata visibile e anzi ci ha tenuto per decenni ad avere i propri rappresentanti ben riconosciuti, non solo sul territorio, devono essere riconosciuti se bisogna pagargli il pizzo, ma anche nell'altra società. Quindi ci sono stati fiori di mafiosi che hanno partecipato tranquillamente con i loro interlocutori, i loro ospiti che conoscevano perfettamente la loro identità a occasioni mondane, a feste di esponenti dell'aristocrazia palermitana, a battute di caccia con grandi imprenditori catanesi. Quindi non era sotterranea, era visibile il mafioso non è come il terrorista. E non è che di improvviso ci sono stati gli omicidi con stragi del 92-93, perché dal 79 in avanti c'è stato un assalto allo Stato prima condotto in forme comunque molto preoccupanti, comunque con stragi. Le autobombe ci sono già già nell'83 con Chinnici, vengono uccise donne, figli, disabili. Poi con il 92-93 c'è proprio l'attacco frontale ai livelli più alti nei confronti dello Stato che si è permesso di condannare all'ergastolo i boss mafiosi. E invece in molti hanno la sensazione che i vecchi mafiosi con la coppola della Lupara siano stati sostituiti dai mafiosi con la 24 ore e il colletto bianco. E si tende anche a confondere comportamenti mafiosi propriamente detti con semplici comportamenti corruttivi o semplicemente opachi. Lei cosa ne pensa di questo? Penso che fa parte dell'immaginario collettivo. Cioè è un processo di autoimmaginazione quello che si è messo in movimento da qualche anno a questa parte per spiegare come sono i veri mafiosi soprattutto al nord. Il mafioso è quello che è sempre stato e nella sua storia abbiamo avuto mafiosi molto eleganti, capaci di stare in società e mafiosi che invece avevano come si diceva dei corleonesi la terra sotto le scarpe. Abbiamo avuto mafiosi capaci di viaggiare altri che non uscivano dal loro paese. Direi che l'identità è pressa poco quella che è sempre stata. Poi naturalmente cambia qualche cosa perché come cambiamo noi con il cambiare del tempo ma non c'è stata questa trasformazione del mafioso. Anche i fucili a pallettoni sono stati recentemente usati nei confronti del presidente del parco dei Nebrodi. È stato catturato un imprenditore a Reggio Calabria con la lupara accanto al divano letto in cui dormiva. Anche questo tipo di narrazione è il prodotto di chi non la conosce. Quindi non c'è stato nessun cambiamento. Si può dire? Si può dire che sono sempre quelli che, soprattutto l'Andrangheta, sono sempre loro, sono sempre quelli dei paesi abitati dagli uomini e dai capreti, come si vede in anime nere, ma capaci anche di operare sulla dimensione internazionale, di andare in Brasile, di andare ad Amsterdam, sempre accompagnati, sempre con qualcuno che li aspetta quando scendono dalla scaletta perché non saprebbero spiaccicare una parola e però poi si decide quello che possono davvero fare e comandare nei paesini di duemila abitanti. Quindi insomma è più una questione di suggestione, di autoconvincimento, secondo lei, che ci sia stata una trasformazione. È di autosuggestione perché se è come lo descrivo io, io non posso farci niente. Mentre se ti racconto che lo posso incontrare tutti i giorni al bar, che non è capace di operare nella finanza, non è un ognomo della finanza, non mi è superiore socialmente, io devo spiegare perché non sia capace di contrastarlo. Certo. A proposito dell'Andrangheta invece, che sappiamo essersi portata nel Nord Italia ed essere radicata nel Nord Italia in questo momento, quanto direbbe che è potente questa organizzazione nel Nord Italia, ora come ora? Beh, ha colonizzato pezzi intere di province del Nord, in Lombardia, in Emilia, in Liguria, in Piemonte. Quindi, e segue questa vocazione colonizzatrice, perché mentre la Camorra tende a fare gli affari, invece qui c'è la conquista dei paesi. Mettere radici, trasformarli, buttarne la cultura, renderli omertosi, affini alle proprie esigenze, compatibili con le proprie esigenze. Quindi è una presenza che rischia di cambiare la storia d'Italia. Prima diceva che è addirittura l'organizzazione più potente in questo momento delle tre che abbiamo nominato. Beh, sicuramente. Su questo sono d'accordo tutti gli investigatori. Paolo Borsellino una volta ha detto Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Negli ultimi anni si fa molto parlare di trattativa tra Stato e mafia. Qual è il suo pensiero a riguardo? Il pensiero è che la trattativa tra Stato e mafia c'è stata molte volte nella storia d'Italia e c'è stata sicuramente anche in quel periodo a cui facciamo riferimento, cioè nel 92-93. Ne ho anche scritto perché ci ho lavorato sopra ed è una convinzione che ho maturato sia attraverso gli studi sia ripensando l'esperienza parlamentare della legislatura 96-2001. Molte delle cose che la mafia chiedeva sono state o concesse o sono comunque entrate dentro un percorso parlamentare. Negli ultimi anni la mafia si è fatta sempre più imprenditrice, affiancando alle sue attività tradizionali nuovi business, che controlla anche grazie a una zona grigia di professionisti e intermediari che si mettono al suo servizio. Come funziona l'impresa mafiosa e come influenza i mercati dentro i quali opera? Dunque, direi che l'impresa mafiosa prima di tutto cerca di espellere la concorrenza se opera in settori in cui può permettersi di farlo, come quello del Movimento Terra. è espansiva, cioè cerca di prendere il più possibile, non ha un perimetro dentro il quale la si può contenere, questa è un'illusione, e trasforma il territorio intorno. Cioè è un agente di trasformazione sociale, non è soltanto un'impresa, perché porta le sue regole. Nel momento in cui una bomba esplode in un cantiere per eliminare un concorrente, il mercato in quel territorio, in quel comune, è già cambiato. E gli atteggiamenti delle persone nei confronti dei propri diritti e delle proprie libertà sono già cambiati. Le faccio un'ultima domanda. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Questa è una delle frasi più famose di Giovanni Falcone. Secondo lei, come si può sconfiggere la mafia, il fenomeno mafioso, serve una maggiore volontà politica oppure il movimento deve partire dalle persone comuni? È utile che si muova di più la magistratura oppure che si combatta l'omertà fin dalle persone qualunque? Quale delle due strade è la più adatta da seguire per sconfiggere una volta per tutte il fenomeno mafioso? Guardi, uno può pensare che sia una strada adatta se l'altra è ostruita. Cioè se la politica non fa il suo dovere uno pensa che sia meglio educare nelle scuole. Se l'educazione delle scuole non funziona si pensa che ci debba essere la magistratura. In realtà occorre tutto perché proprio per quello che abbiamo detto non è una forma di delinquenza comune, ha una logica di sistema la mafia e quindi può essere contrastata soltanto attraverso una logica di sistema. Se metto in azione un pezzo del sistema e non tutti non riesco a sconfiggerla. Di mafia e non solo si parlerà anche al Festival della Parola di Parma, venerdì 1 luglio, in un incontro intitolato Le Facce del Silenzio. Vi parteciperanno Mario Almerighi, magistrato definito integerrimo da Falcone, il comandante Alfa, uno dei fondatori del gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, Mario Furlanna, scrittore e fondatore dei City Angels e Ismaele Lavardera, giornalista delle Iene. Vi aspettiamo numerosi!